Non ho proprio voglia di prepararmi e questa sera... Ma dai, andiamo! Ci saranno un sacco di bei maschioni al nero di soli. Io invece a sentire caldo fin da ora, prendo il mannese speciale. Poi la verichina mi ha lasciato legato. Devo andare a lavorare al night. E cosa mi metto? Questo completino è il lattice nero. No, proprio. Penso che tu potresti vestirmi una sciarpetta e via. Certo che il nero di sole è un posto cicchissimo. Ah, forza ragazzi! Vai! Così! 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 Ah! Ah! Così! Oh sì! Un sex in the bici! Ci volevo provare! Così! 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 Sto proprio caldo qui dentro a questo night. Mi fa il sale la temperatura così, Natascia. Deppi mani cadere. Sono esausta. Torniamocene un po' a casa. A fare le nostre faccende. Oh, la prego al commissario. Anche a me. Sì! E così mi piace! E così! Vuole da bere. Vuole un fresca zuppa. No, Dio te! Ma commissario, lei dovrebbe salvare le vite innocenti e non stare qui a fare la sborgaccione. Ah, invece ti voglio fustigare. Oh, mamma mia! Dovrebbero aumentarmi lo stipendio! Alla prossima, Beppe. Questa margona. Mi ha sfinito. Vero che si è sfinito? Abbiamo fatto un attimo acquisto il mese scorso. Queste biciclette speciali. Senza sellino. Oddio mio! Che roba! Dove andate dal sole? Non sapete che girano loschi individui? Oh, no. Assolutamente no, guardi. Ho un posto sulla canna. Io ho un posto dietro la siena. Oh, sì. La siena è grande. Eh, andiamo a vedere se ci sono le more. Forse ho anche una collezione di caffelle lì. Uh! Chi è? Qualcun altro in tre, sai? Eh sì, davanti. Chiamiamo subito chi sicuramente. Chi ha contratto. Allora... Sì, ciao. Che cosa stai indossando adesso? Stai indossando uno. Un paio di sleep. Eh... Ehi, tutti. E dove sei? Volevo chiederti. Sì, vieni. Volevo chiederti. Volevo chiederti. Volevo chiederti. Che cosa c'è? Siamo a Monte Granaro. Sì. E te la signorina. Mi conosci, no? Stai con una voce conosciuta. Ma certo ti ho riconosciuto. Però ho riconosciuto. Mi vedo spesso. Arrivo subito. No. 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 Allora... Arrivano i soccorci o meglio. Vieni qualcuno? Vengono. Intanto... Veniamo noi. No, Egoci. Lo fate tutto da soli. No. Non, Egoci. No, Egoci. No, Egoci. No, Egoci. No, Egoci.